buonasera a tutti sono luggiero da cosi per fede bentornati sul drone da camatta oggi affrontiamo la ruota resurrect quindi una ruota che dovrebbe essere abbastanza tranquilla invito chiunque voglia unirsi al nuovo gruppo telegram mio ufficiale quando descrizione e partiamo qua e metà un momento pure tommenso serie eventi no perché non ti ho portato sia venti ancora metal cooler dice quali motivi preso un pirlo non vedo molte altre spiegazioni ok ne prendo atto distruggiamo la poraccia come da alcune adesso è a 14 mentre gohan purtroppo mi dispese per lui ma inizia la parabola discendente della sua vita se i tapio non sono imparati a livelli in vero simile in questa ruota come vedrete quasi tutto full abiliti lo dico vuol del mio full abiliti golden amico full abiliti friserevo abiliti 3 golden normale full abiliti tapio magia l full abiliti tapio un tec non solo di questo c'è l'abili di 3 sono full abiliti ma non l'ho portato abiliti friserevo faccia complimenti per l'anno non mi ha aspettato come aspettavo che vi dà il non reggessimo anche un turno ora c'è ti diverti o donna sinceramente ti diverti permette friserevo io d'ho messo giusto per divertirmi un po i danni questi sconosciuti se non cretiamo il tec fa un po fatica non tanto gohan è morto gohan è il classico uomo morto che cammina e non se ne rende ancora conto contro un nemico solo sto team ma cosa gli si può fare sinceramente spiegatemi ora lui cosa ora gohan cosa fa oltre che concedere si becca doppio tapio e poi è finita la battaglia sinceramente una palla bravo finta la battaglia direi che becchia due spese di fila se capò becchia due spese di fila in Potente in te, il debuffe è potente in te, tu lo sai che ti debuffe lo amore, il debuffe è potente in te. Quasi quasi mi tengo due intorno, giusto provare a recuperi, tanto, non cambia nulla però, ne ho fatto un random, tanto a due. Non mi guardavo meno danni sinceramente, vabbè che andavo con le LR, nella scorsa run andavo con Bojack, quindi figuriamoci, questa me la sto prendendo parecchio più a cazzeggio. Qua l'HP è rimasto in vita. Cino A, Cino B, però no, sì, Cino A, Cino B, ok? Ribuffiamo due. Cino A, Cino B, ok? Cino B, ok? Cino B, ok? ok se devo scegliere non faccio lanciare la speciale a lui non faccio lanciare la speciale a lui non faccio lanciare la speciale a lui 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 ah un Dokkan non serve il Dokkan a sto team ma è un muro non 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 Grazie a tutti. 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 Ok. Però... Ok. Ah, vero. Molto ampione forte. Ok. 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 Ok.